In carrozza è più bello, lo scrisse d'annunzio in una cronaca mondana del 1884. Landot, coupé, cabriolet, carrozze patrizi e carrozze borghesi, basta parlarne per rivederle tutte. Oggi, che stanno tornando di moda, ci piace immaginare le signore che vi son dentro come quelle di una volta, quelle dei vecchi romanzi, anche se non portano più il boa di struzzo o le calze traforate, Al ritmo della carrozzella, di Poletto e Pavesio, edizione FONOS, Bologna, canta il due vocale delle sorelle Fasano. Grazie. Grazie. Applausi. Grazie. Grazie. Grazie.